Un giorno atteso da otto anni, lavori di riqualificazione e restauro della fontana artistica Lo spazio dell'acqua e il suo gioco, progetto del geniale artista Ettore Spalletti. Ecco le condizioni fino a qualche giorno fa, ma da stamattina sono già al lavoro gli addetti della ditta incaricata. Questo è un altro pezzo di città che si ricostruisce grazie alla sinergia tra due enti pubblici che sono il Ministero della Giustizia e il Comune di Pescara e tanti privati che hanno collaborato a queste operazioni. Io mi auguro che tante altre operazioni si possano fare con i privati perché così una città come Pescara cresce. Presenti il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio e la vedova del maestro Spalletti. Un intervento da 366 mila euro per la fontana, 800 mila per l'intera piazza, tutto con la supervisione e la collaborazione della soprintendenza. Sui tempi? Quattro mesi per la fontana e poi per la piazza, i tempi dipenderanno dalle attività che l'impresa sta svolgendo. È la stessa impresa, sia quella che farà la piazza che quella che farà la fontana. Abbiamo trovato anche questo punto di equilibrio col Ministero per fare in modo che i lavori potessero essere fatti insieme. Io credo che entro settembre inaugureremo sia la fontana che la piazza. Il Tribunale dopo vent'anni recupera i suoi gioielli artistici, la fontana di Spalletti dopo l'installazione luminosa di Michelangelo Pistoletto. Contiamo di conservarle bene queste tre opere perché poi c'è il mosaico di cucchi all'interno della sala convegni del Tribunale.